Ci sentiamo anche in dovere di porre domande molto concrete perché alla fine uno non sa mai come organizzarsi. Torno quindi alla misurazione della mattina del ragazzino che sta poco bene. 37,5 non ti manda a scuola? Sotto il 37,5 ti manda a scuola? Sì, questa è la cifra che è stata decisa dal nostro comitato tecnico scientifico. L'idea è misurarla già a casa perché spesso poi questi ragazzi fanno un tragitto prima di andare a scuola. E quindi misurarla a scuola significava poi correre il rischio. Molti di questi ragazzi prendono autobus metropolitana o altri mezzi pubblici. Quindi è importante, so che chiediamo uno sforzo alle famiglie ma si può fare. È uno sforzo di poche decine di secondi e credo che questo sia nell'interesse di tutti quanti. Il dubbio è la gestione del risultato. Allora questo ragazzino ha 37,6 io lo tengo a casa e intanto tutta la famiglia deve rimanere a casa perché è un potenziale Covid o no? Ma no, non è così. In quel caso si chiama subito il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta che farà tutte le verifiche del caso. Non dobbiamo improvvisare. Abbiamo un servizio sanitario nazionale forte e dobbiamo fidarci dei nostri professionisti. A partire appunto dai medici di famiglia, i medici che ciascuno di noi ha e dai pediatri. Sono loro che devono guidarci. Quando c'è qualcosa che non va non dobbiamo affidarci alla rete, non dobbiamo affidarci al sentito dire. Affidiamoci alle donne e gli uomini che fanno questo per professione. Abbiamo la fortuna di averne tanti e bravi nel nostro paese. Fidiamoci di loro. Si può obbligare a...